Non ha aperto con stupore le direzioni di sanitario in quanto l'uomo di legge. L'appello che lui fa è raccolato di attenerci tutti alle missive del segretario che io voglio difendo, rispetto a delle direzioni di questione che poi stiamo facendo, io ritengo che nonostante la sua grande età e la prossimità, la pensione, la consenna, la società, o per la diva, o per la diva e l'intelletto, ripeto, come l'altro consiglio comunale, tagliendo un pubblico, pertanto, sentivo dicevo, supererete, anzi liberete, ma si chiede da, a superare un gioco di un palazzo, e quindi ritirà questa richiesta di una conferenza di capoglipi di inutile, procedere a rinestimare il passato di interno di una larga età che è stato e quindi andare in votazione, dove ognuno poi sarà libero di scrivere la propria posizione. Consigliere del Prete, Consigliere del Prete, Consigliere del Prete, vedete, ci siamo divisi e ci divideremo come richiede la politica sulle questioni, sulle nomine, sulle votazioni, insomma sulla legittimità degli atti, vi chiedo, il mio genere, con il buon senso, con il buon senso del padre di Pasiglia che è il proprio genitore del Presidente, simulato, richiama, è un sacco di carri, inlazible, spieghiamo di servizio. Allora, se non ci sono altri interventi, invito il Consigliere, prego, eh, Consigliere Danna, se vuole riferirla con un raccordio di un Saxe popolare sulla risposta. Prego Consigliere Danna, find de Adop. Invito di San Del Rio che ne forse a nachelante quindi vi procede a dire? A Michele Danna. Allora, consigliere, allora, a questo punto, leggo a nonno di scusatori, a questo punto, leggo a nonno di scusatori, a questo punto, leggo a nonno di scusatori, Adesso, per l'installazione, l'annullamento, il capo l'ultimo giorno, come, se non c'è questo chiedetto, per il sinale, visto che sia un po' l'attività, per gli scendereci, il dibattito è sulla questione della catipulata l'ultimo giorno, la prima di 9 fisiche di uomo, il capo l'ultimo parla di annullamento vice della deliberazione consigliare, votata in tasa, 19-4-11, a progetto, 9-4-11, a senso di consiglio, perché tu non è stato detto, 14-4-1, e successivi, modifiche di ragione. Il consiglio comunale si dovrà estimare, su questo atto, se l'annullo o se non l'annullo, della sua pierenza. Adesso, ho chiesto, se ci saranno altri indipendenti, su questo argomento, io, come semplicemente, passo alla votazione, ma siccome mi sta chiedendo la parola, io lo avrò detto, finché ci saranno altri indipendenti, se ci sono altri indipendenti, se lo sto specificando, se è un attimo distratto, lei fa sì, prego, si chiede.